Ciao, sono Leslie Pario, biologo nutrizionista, life coach e autrice del libro No Dieta con calma, il metodo che ti aiuta a migliorare la tua vita a 360 gradi partendo dal cambiamento di alimentazione e in questo cambiamento oltre all'alimentazione sono coinvolti il corpo, la mente e l'agire. Oggi ti voglio parlare in primis di alimentazione e in particolare dei benefici dei cereali integrali, faccio una premessa, il metodo calma è un metodo che aiuta le persone a cambiare alimentazione correggendo le loro abitudini disfunzionali, quindi non è né una dieta chetogenica, né una dieta paleo, né una dieta vegana, vegetariana, quindi segue i principi e le linee guida di quelle che sono i livelli di assunzione giornaliera raccomandata, voglio fare questa piccola premessa. Quali sono i livelli di assunzione giornaliera raccomandata di cereali? Il 55% delle calorie giornaliere, solo il 10% possono provenire da zuccheri semplici, ma se anche non ci sono gli zuccheri semplici ancora meglio. Per farti un esempio, in un'alimentazione da circa 2000 chilo calorie, solo 200 possono provenire da dolci, quindi l'equivalente di 2 cioccolatini e 2 caffè con un cucchiaino di zucchero, quindi proprio poco poco. Per quello che riguarda invece il resto dei carboidrati, il mio invito è quello di passare al vero integrale, perché? Quali sono i benefici di questi cereali integrali? Ho fatto anche la carta nel libro, scelgo i cereali integrali. I benefici sono che questo chicco, ovviamente sto parlando dei cereali in chicco, contengono vita. Il chicco infatti è composto da tre strati, abbiamo una crusca esterna ricca di vitamine del gruppo B e sali minerali, poi abbiamo l'endosferma che contiene amido e proteine e il germe, anch'esso ricco di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Tutta questa struttura serve per la crescita di una piantina, quindi se tu la pianti in un vaso e la innaffi dovrebbe germogliare e dare vita in una nuova pianta. La mia domanda è, se nello stesso vaso vai a piantare un biscotto, farà una piantina? Ovviamente no, quindi il cereale integrale all'interno ha vita, mentre ovviamente il carboidrato raffinato non ce l'ha, ed è forse di semplice comprensione, quindi ti darà più energia e più vitalità. Quali sono i cereali? Quindi non sono quelli per la prima colazione, non mi sto riferendo a quello, si distinguono in con glutine e senza glutine. Quelli con glutine sono ad esempio il più conosciuto, il più utilizzato nel mondo è il frumento, poi abbiamo il camut, abbiamo il farro, abbiamo l'orzo, abbiamo la segale, quelli invece senza glutine sono ad esempio il riso nelle sue tre forme, il rosso, il nero, il venere, ne esistono anche altre qualità, abbiamo il mais, abbiamo ad esempio il sorgo, poi abbiamo un'altra categoria di pseudo cereali che non appartengono botamicamente alla famiglia delle graminacee, ma vengono utilizzati nello stesso modo, che sono ad esempio il grano saraceno, la quinoa, poi meno conosciuti forse l'amaranto, il tef, il fonio, quindi ce ne sono anche molti altri, adesso è solo per spiegarti una classificazione veloce, quindi cosa sono i cereali integrali. Ora, questi cereali hanno una modalità anche per essere consumati, perché? Perché contengono delle sostanze che possono impedire l'assorbimento di alcuni nutrienti, per cui va bene consumarli, è giusto, ma se li metti a mollo prima di cuocerli, almeno una notte, questa strategia ti aiuta a degradare l'acido fitico e attivare la fitasi, che è un enzima che degrana dall'acido fitico per riuscire a digerire meglio e assimilare sali minerali, quali ad esempio il ferro e il calcio. Inoltre questa strategia ti permetterà anche di eliminare quella scusa che ci vuole troppo tempo a cucinarli, perché l'ammollo ovviamente riduce il tempo di cottura e rende più digeribile, quindi hai come vedi un triplice effetto benefico. Un'altra strategia importante nel consumare cereali integrali è quella di aggiungere sempre una porzione di verdura, perché va bene che sono integrali, ma comunque hanno un potere acidificante e un carico glicemico elevato, quindi l'abbinamento con della verdura preferibilmente verde o bianca e cruda ne abbassa il carico glicemico da una parte, dall'altra parte ha un effetto alcalinizzante, per cui anche questo è fondamentale nel consumo, perché mangiare solo un piatto di riso integrale e basta probabilmente ti può poi far venire fame dopo. Sono degli errori che ricorrono spesso nei pazienti questi, per cui ho voluto approfondire un pochino questo argomento per potertelo diffondere, anche se magari lo conoscevi già. Un altro aspetto importante se segui un'alimentazione vegetariana o vegana è portare attenzione alla composizione dei pasti, perché potrebbero mancare delle proteine o meglio degli amminoacidi. Infatti i cereali sono carenti in lisina e i legumi sono carenti in metionina, quindi all'interno della stesso pasto o comunque della stessa giornata per riuscire ad andare a integrare il pool amminoacidico è importante che tu li consumi entrambi, in modo che il tuo pool amminoacidico e quindi le tue proteine possano venire formate per i capelli, per i muscoli, per le ossa. È fondamentale, mi trovo spessissimo di fronte a persone che non si nutrono in maniera equilibrata, quindi o mangiano troppi carboidrati, troppi cereali o troppi legumi senza andare a fare questa integrazione. Per cui rivediamo un pochino ricapitolando questo video, abbiamo parlato di perché è importante consumare i cereali integrali, quali sono, come consumarli e ora veniamo a te. La prima domanda che ti faccio è se sei abituato a consumarli, ti invito se non sei abituato a consumarli a sostituire i carboidrati raffinati con i cereali integrali, se invece sei abituato a consumarli, provare questa tecnica dell'ammollo, se sei già abituato anche alla tecnica dell'ammollo, variare il più possibile, variare anche i cereali al loro interno, quindi un po' di frumento magari, un po' di orzo, un po' di farro, alternato al riso, quindi variare il più possibile a seconda dei tuoi gusti, non sempre lo stesso. Mi piacerebbe sapere quali sono le tue abitudini rispetto ai cereali integrali nei commenti qui sotto. Ti chiedo di condividere questo video se ti è piaciuto e di mettermi un bel mi piace.